E allora riprendiamo un nuovo ciclo di Dica 33, il medico risponde, come sempre un grande piacere ritrovare nei nostri studi il dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale. Buongiorno dottor Cascavilla, ben trovato. Buongiorno. Allora, dottor Cascavilla, oggi un argomento interessante, immagino per tutti i nostri telespettatori. Parliamo di un sintomo fastidioso e disturbante che a volte non riesce neanche a farci dormire di notte. Parliamo della tosse che prima o poi insomma dobbiamo tutti affrontare e che ci spinge anche a chiedere aiuto al nostro medico di famiglia. Allora, come affrontare, come voi affrontate e valutate i pazienti che ecco in questo periodo, anche nel periodo freddo, si rivolgono al medico di famiglia? Innanzitutto la tosse è un meccanismo difensivo che è finalizzato alla rimozione di agenti esterni che penetrano nelle nostre vie aeree. Possono essere polveri, corpi estranei, ma anche virus e batteri. Ma contemporaneamente anche spia di molte patologie. Cosa fare quando un paziente entra nello studio del medico di medicina generale? Naturalmente il ruolo principale si gioca sulla visita medica con anamnesi, raccolta dati e l'esame obiettivo. La visita medica in grado di stabilire natura, caratteristiche e sede della tosse. Cominciamo dalle alte vie. Spesso il paziente con tosse manifesta anche una rinite associata, che è importante. Il naso... Per rinite che cosa intendiamo, Sor Cascavilla? Il classico raffreddore. Ecco, benissimo. Il naso è un portinaio delle vie respiratorie. Il primo, un crocevia importantissimo. Pensiamo che 12.000 litri di aria passano ogni giorno attraverso il naso e l'aria grezza deve essere purificata proprio dalla funzione nasale. Se il naso si ostruisce può generare tosse, per scolo posteriore di muco nelle vie nasale, ma anche altre complicanze come sinusiti e otiti. Quindi il naso va tenuto in debita considerazione la salute del naso. Possiamo già anticipare come? Con decongestionanti nasali o sistemici, oppure con dei lavaggi endonasali con soluzioni saline, perché è importante mantenere pervie le vie nasali. Scendendo lungo la scala delle vie respiratorie troviamo una sede importante di tosse, la trachea. Le tossi tracheali sono quelle che affliggono d'inverno i nostri pazienti. Ma bisogna dire una cosa, che tutte le malattie virali e le tracheiti sono nella maggioranza dei casi tutte virali, non hanno un decorso accorciato dalla terapia, dal trattamento. Possiamo solo mitigarne i sintomi, ma la terapia è prettamente sintomatica. scendendo ancora lungo la scala delle vie respiratorie incontriamo i bronchi. Qui la cosa cambia perché il medico attraverso la visita, attraverso particolari rumori auscultatori, si rende conto se c'è una bronchite. Allora in questo caso la terapia sarà causale. Bisogna debellarne la causa con antimicrobici che favoriscono la risoluzione della patologia. Se la visita medica non è stata ancora sufficiente per chiarire qualche tassello ancora mancante, possiamo ricorrere a un RX torace che ci dirà se c'è un focolaio di broncopolmonite o un versamento pleurico. Ecco, queste sono le patologie principali. Poi ce ne sono tante altre. Lei dottor Cascavilla parlava di cause. Immagino che individuare l'origine di una tosse persistente non deve essere molto semplice e sicuramente mette a dura prova il medico di medicina generale. Quali sono o quali possono essere le altre cause al di fuori invece di quelle classiche? Sì, diciamo anche che le terapie classiche che riguardano le affezioni delle vie respiratorie di tipo virale non vanno trattate con antibiotici perché gli antibiotici vanno solo a scombinare il nostro microbiota intestinale che è un organo di fondamentale importanza per il nostro benessere. Se si ammala diventa l'anticamera di tante patologie. Ecco, detto questo, altre cause di tosse persistente. Bisogna valutare se il paziente assume dei particolari farmaci per la cura dell'ipertensione appartenenti a una classe particolare, gli aci inibitori. Questa tosse può essere persistente e non passa se non sostituiamo quel farmaco responsabile di tosse stizzosa, secca, con un altro farmaco. Quindi la risoluzione della tosse viene determinata dalla sostituzione di questo farmaco. Un'altra causa importante è il reflusso gastroesofageo, cioè la risalita di acidi attraverso l'esofago raggiungono le vie aeree e possono dare tosse e raucedine. Poi ci sono ancora altri tipi, la tosse allergica dell'asmatico, la tosse similante degli asmatici, che però è molto sensibile anche alle terapie broncodilatatrici. Infine ci può essere anche una tosse nervosa. Allora, sì, in quel caso lì la terapia è di tipo psicologico. Chiarissimo, dottor Cascavilla. Mi pare di aver capito che la tosse, essendo un meccanismo di difesa, si espelle qualcosa che non va nei nostri bronchi e quindi non va eliminata, ma possiamo mitigarla in qualche modo, giusto? Certo, certo, certo. E come ci dia qualche consiglio utile per mitigare una tosse che non dà pregua? Innanzitutto diciamo che sono importantissime le vaccinazioni, perché le vaccinazioni eliminano tutte, prevengono tutte quelle patologie che si manifestano con tosse, sia riguardanti le alte vie aeree e sia anche quelle basse. Quindi vaccinarsi è fondamentale. Quindi è una terapia preventiva. Certo. Assieme a quella sintomatica e classica c'è questa terapia preventiva. Altre terapie, naturalmente i mucolitici, via libera i mucolitici, e anche consigli utili possiamo dare, ad esempio idratare molto il paziente, perché l'apporto idrico determina una fluidificazione del muco e la facilitazione di eliminazione. Quindi per idratazione bere tanta acqua, magari delle fisane con del miele potrebbero essere... Anche, anche, perché anche miele, propoli che fluidificano il muco. Poi un'altra raccomandazione, non bisogna surriscaldare troppo nei mesi invernali gli ambienti domestici, perché il caldo secco è un forte potenziale di stimolo alla tosse. Per quanto riguarda la tosse notturna, possiamo dire che occorre assumere una posizione rialzata del busto per evitare che il muco scivoli posteriormente, si depositi nelle nostre vie respiratorie e determini la tosse. Anche il decubito laterale è molto importante. Infine, possiamo dire che, come giustamente stavamo dicendo, che la tosse non va sempre eliminata, perché ha una valenza positiva. Funge da spazzino delle vie aeree, le tiene libere, pervie, per cui via libera i mucolitici in caso di tosse catarrale, produttiva, ma qualche riserva per i cosiddetti farmaci sedativi della tosse, i quali si calmano la tosse, ma possono favorire l'accumulo. Quindi vanno usati sempre sotto consiglio medico e quando la tosse è particolarmente tormentosa e disturbante, pensiamo a chi magari il giorno seguente si deve recare nel posto di lavoro. Dottor Cascavilla, grazie per le sue parole, per la chiarezza, come sempre, esplicativa. Sotto consiglio medico, questa è la frase chiave, lei prima ha parlato di antibiotici, noi, ricordo ai nostri amici, abbiamo proprio fatto una puntata sull'antibiotico resistenza che trovate sul canale YouTube di Padre Pio TV, nella playlist Dica 33, proprio dedicata agli antibiotici. Non bisogna abusarne, soprattutto rivolgersi al medico. Quindi non andiamo nello scaffale dei medicinali, prendiamo l'antibiotico, magari comprato l'anno precedente, così se abbiamo un po' di tosse, di febbre, lo prendiamo. Assolutamente no. Rimarchiamo questo concetto, dottor Cascavilla. Quindi i nostri medici di medicina generale sono a disposizione dei pazienti. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima settimana, restituisco la linea alla regia e vi ricordo che questa puntata la troverete anche sul nostro canale YouTube Dica 33 con il dottor Paolo Cascavilla. Grazie a tutti.